spara laser vai lei mi spara quelli laser quelli laser ah io ho 1.300 punti 1.300 io 340 a te vai Danny spara tutti questi sparali devi fregare dei miei punti selfie selfie ah che entriamo in un tunnel dopo spara 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 entriamo nel tunnel vai Danny spara guarda quelli verdi quelli verdi vai spara spara quelli azzurri chelli di chelli di chelli di